Buonasera cari telespettatori, arriviamo dopo il telegiornale a questo spazio dedicato agli approfondimenti, approfondimenti di stampo politico come di consuetudine in questo periodo e anche questa sera affrontiamo una tematica importante, quella della sanità, lo facciamo con il sindaco uscente Massimo Seri. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Nonché candidato alla prossima tornata elettorale per la rielezione. Allora Seri, l'argomento della sanità è entrato a gamba tesa anche in questa competizione elettorale, lo ha fatto la scorsa legislatura e quindi diventa un argomento sensibile anche in questa fase. Perché questa argomentazione è così viva e vitale in ogni competizione elettorale a Fano? Perché? Beh, questo avviene un po' in tutte le città perché ovviamente la sanità è uno di quegli argomenti che toccano tutti e tocca la sensibilità delle persone perché comunque abbiamo sempre a che fare o per noi stessi o per delle persone che sono noi vicine. Quindi quando si parla di salute c'è inevitabilmente e giustamente una sensibilità molto forte. E poi è chiaro, sono quegli argomenti che si prestano molto alla strumentalizzazione politica perché nelle campagne elettorali in particolare si va alla ricerca del consenso. E lasciatemi dire alcune volte approfittando e dicendo anche cose non vere, magari facendo presa sulla gente che non sempre ha tutte le informazioni. E quindi uso una parola un po' forte, ma troppo spesso sulla sanità si fa anche del terrorismo politico. Ecco, proprio a questo riguardo, in questi cinque anni le opposizioni l'hanno più volte attaccata su questo argomento e anche in campagna elettorale le si attribuisce la responsabilità della chiusura del Santa Croce. È così? Ecco, questa è una cosa che a me mi fa arrabbiare moltissimo. È una bulgia colossale. E quello che mi fa specie, in particolare da una parte politica che mi attribuisce questa cosa, lo dovrebbe dire a se stesso. E fra l'altro lo dicono sempre da lontano e non hanno mai avuto un confronto diretto con documenti alla mano. Intanto una domanda la faccio io. Il Santa Croce è aperto o chiuso? Mi sembra che sia aperto. Io sono andato anche qualche giorno fa giù per mie ragioni personali e ho visto l'ospedale aperto. Quindi chi dice che è chiuso dice una colossale bugia. Ma ogni cosa ha sempre un punto di riferimento, un elemento da cui partire. Perché alcuni dicono questa cosa? E fra l'altro ha una certa presa anche sulla gente. Perché effettivamente nel 2012, io ricordo che sono sindaco dal 2014, da giugno del 2014. Nel 2012 la Regione, Presidente Spacca, fa una delibera, è questa qui. Perché poi quando si parla di argomenti concreti nella pubblica amministrazione bisogna sempre basarsi sugli atti amministrativi. Il resto sono chiacchiere. Noi possiamo raccontare le cose, le favole o le bugie più colossali del mondo. Ma se non hanno elementi concreti con atti amministrativi queste cose non esistono. E allora nel 2012 la Giunta Spacca deliberò la nascita di un nuovo ospedale a Fosso Segliore, chiudendo il Santa Croce e il San Salvatore come previsione. Allora quando si dice questa cosa effettivamente si può dire che il Santa Croce è chiuso. Ma non lo devono dire a Massimo Seri. Forse in particolare il Centro Destro lo deve dire anche a se stesso perché erano loro presenti in quel momento. E io vorrei fare un'altra precisazione perché se dobbiamo essere onesti le cose dobbiamo spiegare fino in fondo. La competenza sanitaria è della Regione e del Ministero della Salute. I comuni non incidono sull'organizzazione sanitaria. Esprimono soltanto un parere i sindaci attraverso la conferenza dei sindaci. È vero, si dice, il sindaco è la massima autorità sanitaria perché è colui che firma il TSO anche in piena notte. È colui che fa l'ordinanza perché magari c'è un caso di salmonellosi o c'è un problema di igiene pubblica. Fa il divieto di bannazione per il problema delle acque. Per questo motivo è l'autorità sanitaria che ha la competenza specifica. Poi è chiaro che un sindaco rappresenta una comunità, fa delle battaglie, cosa che fra l'altro ho fatto e come dimostrerò. Però una chicca me la voglio togliere a tutti quelle cassandre che dicono delle bugie. Questa delibera del 2012 della Regione ha avuto un parere favorevole, quel famoso parere consuntivo della conferenza dei sindaci nel novembre 2011. E io in quel periodo, se non sbaglio, non ero sindaco, c'era qualcun altro a Fano. E questo è l'altro verbale, è il verbale di quella seduta con tutti i presenti, tutti i sindaci presenti. E in fondo c'è anche la firma, quindi non è che hanno alzato la manina, qualcuno si potrebbe anche sbagliare, no, hanno tutti firmato il verbalino, guarda caso, quelli che dicono quelle cose non sono mai affianco a me a confrontarsi su questi atti. E qui c'è la firma di tutti, compresa Fano. Non era del sindaco perché allora era presente l'assessore con delega alla sanità che hanno espresso parere favorevole a quella delibera, a quella proposta della Regione. Solo un sindaco si è opposto, il sindaco di Monbaroccio. Questo è per onestà e per chiarezza. Quindi chi dice, fa questa affermazione, la deve fare a se stesso e non a Massimo Seri che penso che il Santa Croce lo abbia difeso. Quindi la vera competenza in tema di sanità è della Regione. La Regione fa i giochi, insomma. Sì, infatti certi dibatti dovrebbero essere più di campagna elettorale regionale. Quando parliamo di liste d'attesa è chiaro che io rivendico, faccio presente, faccio delle battaglie per migliorare i servizi, ma li faccio come comune nei confronti della Regione. È chiaro che io capisco che un sindaco come me, che in questi cinque anni ha veramente fatto tante cose che non si erano mai viste in questa città, è difficile attaccarlo. E bisogna inventarsi le cose. O giocare sull'equivoco, o sulle mezze cose dette, sulle mezze bugie, o sulle bugie intere per fare colpo sulla gente. Ma questo modo di fare politica, di amministrare a me non piace. Mi reputo una persona seria e penso fino ad oggi di averlo dimostrato ampiamente. Allora, facciamo il giochino del prima e del dopo, così possiamo anche vedere concretamente e con temi concreti alla mano, prima seri, durante seri, e quindi che cosa è cambiato dal momento del suo insediamento in poi. Ecco, il Santa Croce è aperto e devo dire, da quando siamo arrivati, le cose sono cambiate e le cose sono migliorate. Parlando di elementi concreti e dati alla mano, il resto sono chiacchiere. A me piace parlare di cose concrete. Allora, io do alcuni dati, perché io ricordo cinque anni fa, quando mi sono insediato, mi avevano posto una serie di questioni. Stanno svuotando l'ospedale, stanno portando tutto a Pesaro. Lo ricordo, perché questa cosa ancora viva oggi nell'emozione della gente. Ovviamente, effettivamente, in quegli anni, tutta una serie di reparti, per creare quella integrazione decisa negli anni 90, perché diciamo anche queste cose, tutta una serie di reparti più chirurgici si trasferirono a Pesaro, ma questo prima che io arrivassi. Da sindaco ho posto questo problema, ho detto, ok, c'è un'integrazione che è andata da Fano verso Pesaro, ma ci deve essere quella che da Pesaro viene a Fano, perché i due ospedali avevano una vocazione, una più chirurgica e una più medica. E dal 2015 in avanti c'è stata tutta una serie di investimenti fatti sul Santa Croce. Allora, mi piace sottolineare un aspetto, dati alla mano e non chiacchiere. In questi tre anni, dal 2015 al 2018, a Fano sono stati investiti il 331% in più rispetto al passato. Siamo passati da 4 milioni nel periodo 2013-2015, fra l'altro nel 2015 c'ero già io, quindi alcune cose dovrebbero apportate alla mia gestione. Dal 2015 al 2018 nel Santa Croce sono stati investiti oltre 14 milioni di euro, a dimostrazione che la struttura c'è ed è operativa e fra l'altro dobbiamo ringraziare tutti quegli operatori, medici, infermieri, osche con grande professionalità e grande umanità prestano un servizio eccellente, perché anche tutte queste chiacchiere non fanno bene a chi ci lavora, non fanno bene alla struttura che è una struttura seria e questo io mi sento di dirlo a viva voce, con convinzione e con cognizione di causa. E mi piace anche ricordare che dal 2015 tutta una serie di nuovi reparti e di nuovi investimenti sono arrivati al Santa Croce. E li cito, nel 2016 c'è stato il trasferimento da Muraglia a Fano di tutti gli ambulatori di dermatologia. Nel 2016 sono stati portati 10 posti letto per dei surgery del reparto di Breast Unit, la senologia, che oggi fa mobilità attiva. Noi eravamo abituati a parlare di immunità passiva, qui c'è un'inversione di tendenza. Nel 2016 si è trasferito, sempre da Pesaro, con 15 posti letto, il nuovo reparto di neurologia. Nel sempre 2016 tutta la gastroenterologia e l'endoscopia digestiva, 24 posti letto, ospedale di Fano. Sempre nel 2016 c'è stata l'implementazione e gli interventi negli ambulatori per lo scompenso cardiaco. Sempre nel 2016 ostretice di ginecologia, nuove sale parto e nido, con 2 milioni e mezzo di investimento, 24 posti letto. Sempre nel 2016 tutto il nuovo blocco operatorio, anche qui investimenti ingenti. Sempre nel 2016 tutto il polo endoscopico. Nel 2017 il pronto soccorso ha riorganizzato e realizzato nuovi studi medici e ambulatoriali. Nel 2017 l'implementazione di 10 posti letto per lo stroke unit, l'ictus, che viene colpito da ictus. Nel 2018 tutta la chirurgia ambulatoriale è stata implementata e con interventi, nuovi ambulatori per la sala Gessi. Ecco, nel 2016-2017 tutte queste cose sono arrivate al Santa Croce con nuovi posti letto. A chi dice che in questo periodo l'ospedale è stato svuotato, io lo rimando indietro e dico che queste cose le devono dire a se stessi. Probabilmente quando mi fanno queste accuse è perché si guardano allo specchio e non vedono me ma vedono se stessi. Ecco, io con grande orgoglio rivendico questi risultati che è la dimostrazione del ruolo che abbiamo svolto di incisione nei confronti della Regione. Perché, lo ricordo, poi questa è una competenza regionale. Allora, chi dice che la Santa Croce è stato chiuso, io dico che la Santa Croce è rimasto aperto, più forte di prima, con più posti letto e i due ospedali hanno gli stessi posti letto. Forse ce n'ha qualcuno in più, Fano. Paradossalmente, come si vede, molte volte la percezione è diversa dalla realtà. Ma devo anche riconoscere, e voi giornalisti ne siete una testimonianza, e anche le polemiche sono più politiche. Mentre cinque anni fa, quando mi sono insediato, io vedevo molte uscite della gente che si lamentava. Per carità, con due strutture a dieci cronali una dall'altra, inevitabilmente ci sono dei disagi, ma sono anche per chi ci lavora. Però la dimostrazione che vi è stata tutta questa implementazione, questi nuovi arrivi, questa nuova riorganizzazione, questi investimenti, lo dimostra il fatto che anche le lamentele, tutte quelle proteste che c'erano prima sono molto attenuate. Poi c'è anche tutti i nuovi macchinari, le nuove tecnologie che sono arrivate, l'ultima che abbiamo inaugurato pochi mesi fa, anche la nuova TAC che aumenterà le prestazioni, ma soprattutto anche la qualità dei servizi. Poi ci sono state anche un'implementazione di tante attività. L'implementazione dell'attività chirurgica, le sale operatorie sono state allungate gli orari, dalle 8 alle 20, l'attività di radiologia lo stesso, aumentata di 12 ore la sua attività. L'attacca addirittura dalle 20 alle 23 di notte. Per cui anche questo è un bel segnale e aiuta a ridurre le liste d'attesa, che sono sempre un problema, perché io queste cose le evidenzio e le richiamo, ma c'è stato un miglioramento rispetto agli anni passati. E c'è un'altra, penso sia soddisfazione per tutti, il riconoscimento nel 2017, dicembre 2017, di Trebollini Rosa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Questo alla luce anche del nuovo reparto di senologia che sta ottenendo grandi risultati. Sì, beh, sicuramente penso che il reparto di Magalotti sia un'eccellenza che possiamo vantare assolutamente. Allora, dicevo, Seri, il dibattito della sanità si è sviluppato però su due filoni, su due binari quasi paralleli. Da una parte appunto di Santra Croce, che abbiamo sviluppato e sviscerato fino adesso, però c'è stato sempre il tema, entrato a buona ragione, quello della sanità privata, con le delibere, e con il percorso che è stato fatto per arrivare a questo. Quindi la situazione su questo aspetto qual è? Qual è la sua visione di questo aspetto? Sì, la ringrazio anche per questa domanda perché mi aiuta di fare ancora ulteriore chiarezza, ma soprattutto di evidenziare i risultati che abbiamo ottenuto. In questo caso proprio voluti dal sindaco e dall'amministrazione che mi ha accompagnato. Nel 2015 si è aperto un nuovo dibattito sulla luce del nuovo ospedale, sull'ubicazione. Io stesso ho fatto una battaglia che diceva Chiaruccia è, ritengo è, uso il presente, il sito migliore. Però poi purtroppo ci sono anche gli atti della democrazia e si può vincere e si può perdere. E su quell'aspetto non siamo riusciti a ottenere il risultato di trasferire la sede nella località di Chiaruccia. Però abbiamo aperto un contenzioso forte e lo ricordo c'è stato un momento che ero anche solo nel fare questa battaglia. E con la regione abbiamo aperto un dialogo acceso, che è la regione diversa da quella che aveva deciso di fare il nuovo ospedale. Non lo dimentichiamo questo. E siamo arrivati alla definizione di un protocollo, tanto contestato. E io non riesco a capire le ragioni. Chi fa queste cose le fa per opportunità politica, per sminuire il lavoro degli altri o perché vuole male alla propria città. Siccome io voglio veramente bene alla città, altrimenti non mi sarei candidato a fare il sindaco. E noi abbiamo stipulato un protocollo dove abbiamo definito alcuni punti fermi, che sono tutti a favore della città. Perché un sindaco fa gli interessi della propria città e non quella di altri. Anche a quelli che insinuano che stiamo diventando succursali di peso e che ci stanno portando via tutti. Allora vi faccio una domanda. Mi dite una sola cosa? Una. Da quando sono sindaco io che è andata via da Fano? Io noto, ricordo solo cose che sono arrivate in più in questi ultimi quattro anni rispetto al passato. E mi fa specie che queste cose le dica proprio coloro che sono stati vittime di quelle situazioni. Poi io siccome sono su questo aspetto molto leale, molte volte non le attribuisco neanche a loro perché ci sono delle situazioni che vanno al di sopra di tutti, perché se una città è capoluogo o meno. È chiaro che quando il Ministero della Giustizia ha riorganizzato i tribunali e dovendo chiuderli alcuni ha lasciato aperti solo quelle città a capoluogo. Io non do la colpa al sindaco che c'era allora perché chiunque si sarebbe trovato in quella situazione. Vedete, su questo sono onesti. Perché i politici bisogna essere anche onesti e rispettosi della verità. Però per quello che mi riguarda, con le mie battaglie, ho solo portato cose aggiuntive in questa città e non solo nella sanità. E la dimostrazione è questo protocollo che ho firmato, che rifirmerei oggi, che rifirmerei domani. E con questo protocollo diciamo tre cose importanti. Uno, che se, uso il se perché ancora ci sono polemiche. Ricordo il protocollo fatto con la Regione Marche. Con la Regione Marche, firmato dal Presidente della Regione e dal Sindaco di Fano che riguarda solo Fano, perché è chiaramente la Regione poi che l'ultima parola la dice. E su questo penso abbiamo ottenuto un risultato importante. Perché un sindaco fa gli interessi della propria città, sia in termini di servizi ma anche in termini economici, lasciatemelo dire. E con questo protocollo noi diciamo, prima cosa importantissima, che smonta tutti quelli che fanno delle accuse e insinuazioni, che se domani nascerà la nuova struttura, l'ospedale Santa Croce rimarrà aperto, rimarrà ospedale nella nostra città. Cosa diversa, prima che sarebbe invece stato chiuso. Con un pronto soccorso fino al Codice Rosso, che oggi non c'è, quindi per esserci un pronto soccorso col Codice Rosso, quindi emergenza, significa che alle spalle deve avere tutta una serie di posti letto e di servizi e di strutture unità operative. E rimane gran parte delle cose che ci sono oggi, chiaro alcuni reparti inevitabilmente andrebbero nella nuova struttura. Però con questo protocollo rimane l'ospedale Santa Croce aperto, primo. secondo, abbiamo conquistato 80 nuovi posti, di cui 40 RSA, poi spiego cos'è, 20 di demenza senile e 20 di cure intermedie, e quindi significa che è quasi un'altra struttura ospedaliera. E le RSA sono quelle strutture, quei posti, per quelle persone non autosufficienti che hanno bisogno di una struttura che li accolga 24 ore al giorno. E oggi, nella città di Fano, non c'è un posto. Chi ha bisogno di questi servizi deve rivolgersi a Mondavio, San Lorenzo in Campo, Mondolfo, ci sono a Pesaro, ma a Fano non c'erano. E con questo protocollo noi, in solo botto, scusatemi la parola, ne abbiamo conquistati 40, con altri 40, come dicevo, di cure intermedie e di demenza senile. E questo è un grande risultato, è una grande risposta ad un bisogno che la città ha. Terza cosa, sanità convenzionata, la cosiddetta struttura privata. Allora, intanto cerchiamo di spiegare di cosa si tratta. È un po' come C'è Cotignola, così i fannesi capiscono bene dove tanti si rivolgono a delle prestazioni. È un po' come, io faccio sempre un esempio, quando andiamo a fare l'analisi del sangue, possiamo andare in ospedale o andiamo in una struttura convenzionata come il Gamma, ad esempio, qui a Fano. Per l'utente non cambia nulla, una è prettamente pubblica e l'altra è privata, convenzionata. E quando parliamo di clinica convenzionata parliamo di una struttura di questo tipo. E con il protocollo si dice che questa struttura, questa nuova clinica, si realizzerà a Fano, a Chiaruccia. Allora, anche su questo, facciamo chiarezza. Chi dice che se diventasse sindaco non fa la delibera, non fa fare la clinica privata, dice una merita bugia o dice una verità penalizzando Fano? Perché non è che si discute se farla o non farla. La Regione ha definito che ci saranno 50 posti di sanità convenzionata ospedaliera. Quindi ci saranno. Con questo protocollo Massimo Seri, sindaco di Fano, ha conquistato il fatto che si faccia Fano. Se noi diciamo no, che non la vogliamo, non è che non si fa la clinica privata convenzionata, la fanno da un'altra parte, la fanno a Pesaro. E allora non lamentiamoci dopo se le cose vanno via e non le fanno da noi. Allora, con questo protocollo noi abbiamo conquistato il Santa Croce aperto, come è scritto dietro rispetto a chi l'aveva chiuso prima, anche se oggi è aperto e l'abbiamo rafforzato. Due, 80 posti di cui 40 DRSA nuovi e un nuovo ospedale convenzionato. Questo è il protocollo che Massimo Seri ha firmato con il Presidente della Regione. Se noi oggi strappiamo questo protocollo, lo strappiamo, lo rendiamo valido, cosa rimane? Rimane la famosa delibera del 2012, dove si dice che nascerà un nuovo ospedale, si chiude il Santa Croce e il San Sfattore e affanno cosa rimane? Nulla. Con Massimo Seri non solo quella roba è scongiurata, ma ci ritroviamo ad avere due ospedali, il Santa Croce e la clinica convenzionata, e 80 posti di cui 40 DRSA. E questo, lasciatemelo dire, lo dico anche con orgoglio, è una grande conquista nell'interesse della città ed sono servizi aggiuntivi e soprattutto nella nostra città. E poi noi sappiamo benissimo che quando c'è una struttura ospedaliera c'è anche un indotto, c'è una ricaduta economica e ci sono altri interessi, nuovi posti di lavoro importanti. E allora, ecco, a tutti quelli che cercano di denigrare un lavoro, noi rispondiamo con serietà e con risposte concrete e con fatti. Questa è la vera differenza. Bene, il tempo è veramente agli sgoccioli, pochi secondi, possiamo fare una battuta flash Seri. Il Santa Croce, lei l'ha difeso quindi? Ma alla fine, con tutte queste accuse, la dimostrazione è vera, con i fatti e con gli atti, ricordo con gli atti, quella è la verità. L'unico che ha difeso il Santa Croce e ha conquistato a questo punto è Massimo Seri, che lo ha mantenuto aperto e lo manterrà aperto, grazie all'intervento e alla determinazione che è riuscito a incidere sulla Regione. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie Massimo Seri, ricordiamo candidato alla rielezione per la poltrona di sindaco di Fano, alle prossime elezioni amministrative. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia e vi rimando ai prossimi approfondimenti. Arrivederci. Buonasera. Buonasera.